Adesso iniziamo con un piccolo esperimento ASMR e vorrei iniziare col descrivere i diversi tipi di voce ASMR. Questo è il whispering, cioè la voce sussurrata e molte persone trovano questo tono di voce incredibilmente rilassante. Poi c'è il soft spoken che sarebbe un modo di parlare dolce e lento e tante persone si rilassano con questo tipo di tono. E poi c'è l'innotable whisper che sarebbe un bisbio quasi impercettibile come questo. Ed è molto 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 rilassante. Adesso faremo un piccolo test con dei suoni. Questo è uno dei suoni popolari, è il suono di alcuni cubetti di legno. Eccoli qua. Suona quasi come un massaggio. Se chiudi gli occhi potrai quasi sentire i suoni muoversi attorno a te. Questo è l'effetto binaurale, molto popolare nell'ASMR. Poi abbiamo il tapping. Che sarebbe il tamburellare delle dita su una superficie. Se in qualsiasi momento del video ti capita di sentire dei prefidi, Allora, probabilmente sei una delle fortunatissime persone che provano l'ASMR. Ok? Un altro tipo di suono molto popolare è il crinkling o crinkle. Avete questo suono? Che è quasi un crepitio. Ed un altro suono popolare è quello dell'acqua. E degli spray, per esempio. Un altro suono popolarissimo nell'ASMR è il deer cupping, cioè Puggiare le mani sul microfono e sembrerà quasi come se stessi davvero toccando le tue orecchie. Ed infine, si possono usare diversi strumenti che producono suoni interessanti, come questo di Abason. Questa è una piccolissima e veloce introduzione all'ASMR, ma i suoni sono davvero tantissimi e non ti resta che trovare il tuo. Quello che ti rilassi di più è quello che ti rilassi di più e che provoca, per l'appunto, i privi di ASMR. Grazie, è spiegabile per questa meravigliosa opportunità di presentare l'ASMR e di spiegarlo. E ti auguro una bellissima giornata.